Mentre prosegue senza sosta la corsa al vaccino, la ricerca di una terapia in grado di sconfiggere il Covid fa un altro passo avanti. E l'arma migliore, ancora una volta, sembrano essere gli anticorpi. Sono tanti gli studi clinici sull'uso di queste particolari proteine per trattare la malattia, primo tra tutti l'uso del plasma di pazienti guariti sperimentato dall'italiano Giuseppe De Donno. L'ultimo, in ordine di tempo, arriva dalla Columbia University di New York, che su Nature annuncia il successo di una cura basata su anticorpi prelevati da soggetti ancora ammalati di Covid. I pazienti in cui l'infezione è ancora in corso, infatti, avrebbero anticorpi diversi e più potenti rispetto a quelli prodotti da chi è nella fase di convalescenza, più facilmente prelevabili e riproducibili a livello industriale. I primi test, dicono i ricercatori, hanno mostrato un'efficacia straordinaria nel distruggere il virus. La speranza ora è che anche i test sull'uomo siano altrettanto positivi. Intanto, in Italia, finisce sotto inchiesta l'accordo del Policlinico San Matteo di Pavia e la società di Asurin per la messa a punto di test sierologici e molecolari per la diagnosi del Covid-19. L'accusa della Procura di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente è peculato. L'indagine nasce dalla denuncia di una società concorrente, secondo cui l'accordo sarebbe stato stipulato senza gara.